è una ciovega è una ciovega eh? bo 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 poi non riesce a capire dove andare con la moto ti è perso lì, non so cosa combina c'è di un tronco, a destra, non c'è niente mai a destra vedete che c'è un po' la l'intensità che ho tolto se lo vedi che è lì vedete che il volantello è più fino mi hai fatto spaventare cazzo cacchiere lì a fare lì ma stavi andando quanto sai che sbaglio cazzo per il tuo guardato lì si è streguito oppa avanti per te vai ma forza può farvi andare giù ormai mi conviene andare in giro quattro gambe così che si fa? che è meno mato perché c'è una gamba sola che usa eppure riesce lo stesso figaro cioè tu come cazzo fai? oh con una gamba io non lo so porco diavolo incredibile non lo so niente di pericolo per quanto troppo? si ma lui è meno mato c'è una gamba sola eppure riesce lo stesso ma cazzo fai? ma perché una li do trazione quella che tengo su quella che io tengo su è perché gli do trazione perché se la scarico anche quella non lo so più ma che con la salita lì mi è andato su bene cazzo l'ha fatta bene ma l'ha fatta bene cazzo il vito l'ha fatta andare intanto c'è arrivato sembrava che era asfaltata cazzo il vito è andato su cazzo di non ci pensare neanche con due tempi dopo questa ma sei fuori ma dovremmo anche usare oggi ma sei pazzo vabbè ho provato quella con l'avviamento elettrico ma smetti guarda un'altra roba e non è uguale a questa con questa ormai non puoi più provare due tempi te a meno che io non voglio buttarla via va bene se no provala mia moglie mi fa non usarla non usarla c'ha ragione non te la prende più quello lì ti faccio la porca troia smena a grama ma la giornata non è finita te ne vai da qua te ne vai che arriva gas progressivo lezione di tecnica sulla scogliera guardate dove cazzo siamo ragazzi che sembra che siamo in cioè ti rendi conto dai gargamella triascula va avanti un tocco ppi li and equity diego mi serve eheh że ocho che cadisi haeto presto questo hotel ha detto padrone dai mi hai. strappato su un calciclamino porca miseria e quando ti risponde così perché è già nervoso anche perché sei in una zona a rischio cadere qua cioè figaro si si di là si ha anche lasciato il parafango ma sto finendo la videocamera io ha covacciato ma l'hai fatto e che cavolo io ho visto lui mi sono spaventato 1300 volte eh vabbè ascolta è importante arrivare su ma che il vito già è caduto e quindi da fermo quindi occhio occhio a fare i versi perché cade anche te cazzo ma noi scemo che lì è profondo ma che profondo guarda aiutano no gli anziani aiutali cazzo tu che sei giovane che si rovide